Forti dei risultati crescenti raggiunti con le prime due edizioni, il prossimo 20 settembre si apre la call per la selezione di start-up e spin-off che concorreranno per aggiudicarsi i premi della competizione che coinvolge mondo universitario e della ricerca. Tra i progetti candidati tre andranno a rappresentare l'Abruzzo al premio nazionale per rinnovazione in programma a Roma l'Università Tor Vergata tra il 30 novembre e il 3 dicembre. Il 20 settembre con l'apertura della call sul sito dedicato all'iniziativa prende così il via la terza edizione della Start Cup Abruzzo, fortemente evoluta dalla Camera di Commercio Chieti Pescara. È una competizione che noi andiamo a premiare tramite i fondi della Camera di Commercio alle migliori idee che nascono dal mondo universitario, quindi start-up universitarie, idee che vengono da studenti universitari e spin-off universitari della ricerca. Abbiamo inserito quest'anno la possibilità dei team selezionati di usufruire di un progetto che è quello della Start Cup Academy che è un progetto formativo e di scambio di esperienze che sarà fatto a quattro mani con l'Agenzia di sviluppo della Camera di Commercio e che prevederà la partecipazione degli start-up per più importanti a livello nazionale di origine abruzzese ma anche di altre regioni che verranno qui nel periodo di formazione a sostenere e a formare i team che dopo andranno a svolgere la finale. Quest'anno andremo a premiare tre progetti, quello per la migliore idea, quindi miglior soluzione, la soluzione più innovativa, la migliore start-up abruzzese e il miglior spin-off abruzzese. Le start-up non hanno età, le idee non hanno età. Giustamente si spera che tanti giovani siano i promotori di progetti, di idee innovative o migliorative di quando già abbiamo. È una mia situazione che ci troviamo al terzo anno, che noi continuiamo e spero che negli anni lo renderemo sempre più importante, perché il sogno da quando ho intrapreso questa iniziativa nella scorsa edizione, il sogno è quello di portare l'Abruzzo all'attenzione dell'intera nazione come regione dove si parla di innovazione, si parla di possibilità di creare nuovi strumenti per migliorare il mondo della vita e della produzione.